Maidenti, ci sono le treciate, non c'è personale, non lo so, io mi chiedico, io mi dai qui l'altra, io ho ho... Non si è un po' di sbagliato? Non si è un po' di sbagliato? No, a tutti, io mi si forcia... Allora, un'attività disegno, a tutti, sento tanto che ho la passività, io sui dire il motivo, il dicente è un corretto, che il dicente conferente si illustrà del quali erano il quattro mischi, Giustamente, dicete che non è parte, così in caso è stato frenato, perché sicuramente c'è la voglia del dirigente, non sono assolutamente convinto del dirigente, non si sono sicuramente mai a una chiesa così calda come quella che è stata. Però, sì, divertente, io così chiaramente, ma non so del problema. Allora, è in presenza sinimpensabile, senza andare a costruire tutta la quarta, la vicenda, la quale siamo trovati oggi a dover riconcorrere il pubblico gioco, ma è soltanto una nota importante, e che è stata abbastanza citata, il punto che noi abbiamo votato, e come dico, cerco sempre, in concluso con la maggioranza, dovremmo essere puntate, in illustrati e in progetti della maggioranza, perché in questo caso, noi abbiamo dovuto fare, da fare, da uno a fare. Allora, il punto che noi abbiamo trovato, che la vittura del pugno, come vi detto, è andato alla provincia per il barrio, è stato costato, cioè è stato restituito, perché è capitato. Vabbè, la collegia di connessione della lettera che accompagna, ma lui era mancante di autunni, diremmo sì, mancavano delle competenze, e come noi dicevamo, e come lo dicevano al stesso punto, è il compromesso dell'attività 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 dell'attività, perché adesso faccio l'attività dell'attività dell'attività, poi continua tendo mediante allergenza, ma non è gather no, ma voi verrà dico che io lo v boisinema,liche? Ah, va... questa è la quella, perché ha un amicorderi, fa i voti che la maggioranza faccio solo che io voglio come in guarigione, e purtroppo io sono courage. E mi segni su, ma no... E lo so è troppo, io mi accordi che mi credetemi qui, quando per una maggioranza la fusa alla fosfora, ma non guida, perché non è quale... Scusate, saggiazioni dalle emotive. allora, però è stato chiesto a un'icosch narzobili e poi lo vuoi Gioia 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 No, ma non è mia musica! Venga qui! Allora, vi dico, è stato restituito, oggi noi dobbiamo andare ad approvare un buon book. Nelle more abbiamo ancora la sicenza che l'organità abbaguarda questo cappello di varia superiore. Poi avevamo un progetto che il motivo per il quale non l'abbiamo approvato. Perché non sapevamo che sarebbe stato restituito, sapevamo che eravamo affatto perché non guardavamo la situazione reale del territorio, sapevamo che era cadente di alcuni documenti e quindi pensavamo che consiglia di elaborare lo stesso e poi da te. Non siamo stati ascoltati. Oggi, a distanza di un esempio e peggio dalla fine della ricerca delle notte di Santa Padre, che mi vedevano questo famoso cappello di Vanguicinio, perché noi dobbiamo andare a raccontare nuovamente questa ricerca. E in una prima interlocutoria potrebbe dare un cappello o qualche modo di parlare, lo dice che non è detto che questo book sia il book per i nostri figli e santi. In questo punto siamo d'accordo, quindi non come dice il Stato della Puglia, noi dobbiamo toccare, dobbiamo fare i modi, no? Perché si dice più gente della Puglia, può cambiare la mia appena, ma che si può siano. E noi stiamo contenti che l'attualità politica deve essere ragionata, deve calcularci su tutte quattre le persone esigenti della città, deve essere modificato qualora se ci siano le necessità, se ci siano le possibilità di fatto, quindi a te ne dobbiamo considerare il book come un punto d'articolo. E io sono convinto che attualmente, come è la solita parte di questa nazionale del book di Vanguicinio, un grande slogan anche elettorale. E per te andiamo ad amalgamare questo atto di indirizzo. In un altro, in quattordici baci, se no, in quattordici baci, in una finale operazione su quella che è la donna di una vicenda, come è visto, e in due baci lette e quattilegge, parole di chi ha dell'atto esatto, in quattro, le trasformazioni dovranno perseguire nelle precede lecidità che rappresentano l'intensità e guardate le parole utilizzate, qua, in forma di slogan, gli obiettivi che esiste con la costruzione dell'attualità comunale. E poi se l'educazione, appunto le parole, di slogan. Se la notte c'è, un altro diritto, non potremmo scelte a questo diritto, dunque, in questo modo, dovremmo montare il consiglio comunale, quindi, la reale elaborazione del piatto. Però, io assumo delle cose a cui si tocca. E anche a maturale del concreto, in questo senso, in questo caso, le stesse parole del sindaco, il presente concreto dell'immunità è stato stesso come un atto avvento, atto avvento, un totale pari avvento, e le stesse parole del sindaco. La risparenza, l'atto avvento, la risparenza, la risparenza, la risparenza, la risparenza, la risparenza, la risparenza, l'atto avvento, comprende, l'integrazione del comunismo, l'integrazione del individuo, che dovrebbero essere di integrazione. Comprende tutto, e niente. Allora, un po' più di specificità, anche degli individui, sarebbe stato in buon grado accettato. E lo dico, perché qua, io dico, utilizzando anche una risparenza che mi fa tanto comoda ai primi, ultimamente, si, è una cosa del cielo, vuoi avere portato, ma direci come volete fare, vediamo i, vogliamo vedere la prova del nome, vogliamo vedere, andate a vedere questo nome rispettere i quadri. perché, la mia proposta, mi ha detto, che la prova di amiciare, io la consiglio alla preghiera dirigente, e poi mi fa compito del dirigente attraverso l'ufficio di Stato, cosa che noi sosteggiamo perché avremmo voluto parlare tra i loro e non mi permetta, e questo è veramente l'ultima centra con il consigliere del Perugno, io ho sempre visto tante volte la mia posizione è questa delle commissioni. Per me, le commissioni, un mezzo di democrazia dovrebbero, ma nel modo in cui non state impegnate chi parlava per me, sono semplicemente un'office, non dovremmo ricordare la domenica del Perugno è la mia personalissima concezione dell'evoluzione, altrimenti non avrei votato una modifica di regolamento che le diceva che le diceva il numero che fosse la risposta regolamento come piaceva a me, come intendevo io la regolazione della democrazia si fa in considerazione e quindi c'è la voce di tutti le persone e quindi abbiamo un pubblico che ci è rimasto e quindi abbiamo modo di confrontarlo con le persone e con noi non ne ha condizioni dopo l'emocrazia ma sempre non lo passiamo ma sempre tutte le nostre organizzazioni che abbiamo fatto questa università e la maggioranza di opposizione non c'è mai stata io la mandiamo la comunicazione che è una principale della commissione di donna si cambia non c'è la capacità si cambia e si cambia e si cambia un po' testimoniano che quando ho chiamato qualcosa io sono sempre dipenduto fuori 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 assolutamente 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 la rivoluzione la rivoluzione la rivoluzione la rivoluzione la rivoluzione anche il contrario la condivisione non è democratizzata si condivide ma quando si fa quello che è il progetto noi ci prendiamo una rivoluzione del fatto degli interi interpretando la norma prendetevi le vostre sconsolari noi non lo utilizziamo e quindi vogliamo è una cosa proprio da pensi che ci sono altri 60 secondi guarda che non ci stavo la pregheria non è del possibile ma io non voglio essere precisi ma io non mi permesso perché non si ricorda ai siti proprio di chiedere ed è di qua allora è questo il adesso vado a fare quella che abbiamo rossa noi abbiamo un po' questa è una cosa questi sono semplicemente altri e io vorrei che il dirigente l'assessore raggiunga gli altri consigliere comuni e venisse il momento in cui vanno a elaborare una proposta di tutti ma che dovrebbe essere provato come la gente non mi ha comprevuto assenzi che il politico deve essere distruttivo perché che lo il il punto che si vuole consigliere alla presenza, alla cattivice, il voto tale che non lo vede. Poi nel momento in cui non vedo che ci sono tenere il voto, perché se io ne volerò il tuo voto e non dovessi fare il suo voto, sul duc, quando sarà portato il suo voto. In me, il duc, per me, c'è una cosa che io lo so, che veramente non vuole consigliare la regola delle notte stava fatto. Allora, io vorrei quindi questa situazione superata, che mi ha dato un atto di diritto già presentato nel video, e come la mente è un punto di salire, in modo tale che poi ci sarà capito, e quello, la direzione che la fa, dovrei portare di sopra. Innanzitutto, farei per esempio questo punto che si mette il problema che è quello della unico edizione, e quella che è la proposta più dettagliato e meglio elaborato. Io sto facendo le uniche tutte e poi le risposte, no, farete così. Secondo punto che ricordare di questo diritto è stata già l'epoca, ma ho presentato il punto che in prima distanza, che ho preso un segmentamento per i copi, se lo ricordavo, e il comportamento della categoria G, con la possibilità per il cambio... Lo sapete che se vuoi lo spiegare, se no, non sarebbe stato l'epoca. Io propusci a colpare la categoria del migliore, e costruzione, 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 e anche in una grande condizione, riportato a quella che è la condizione economica attuale. Perché se vediamo la concessione del gran partita con i reali, in questo caso, se dovete realizzare la direzione industriale, o se dovete realizzare una condizionale, noi dobbiamo considerare una condizionale, che voglia di posizionare la costata di loro. Quindi ritorno a quello che... Io ho detto qua, dicono, a quello che mi ricerca la qualità, quella legge, ma che non è possibile che dovremmo andare a lavorare, e che dovremmo richiedere nuovamente la presentazione dell'osservazione. Da un momento che abbiamo detto, c'è una parte fattiva del gruppo, non so, non c'è stata pubblicata. Io chiedo che nel prossimo, perché è invenito questo tipo di situazioni, dei conti che inizi si chiama con una mia situazione di interesse del Paese. Quindi chiedo... Poi, ci rievo una valorizzazione dei nuovi, che vedono la mente di chiedi e di tutti i rispondosi, che hanno citato tutte il rischievo del cittadino. Poi... Perchè lo faccio del tocco, in modo tale da inserercizio. Poi, il prezitto di un sacco, in giallo, è che ha pensato alla distruzione della collettività. Con la colpa di un sacco. Poi... è che lei, non mi seguire la donna con l'evento. E' che cosa che le faccio, ma che si chiama con l'ecchiavo del cittadino e le due propré di un sacco, e le due propré di un sacco, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.